è che è un capo che uno prende, mette, lava la... Caldo no, diventa recessivo, ma adesso col freddo che fa io me lo metto il leggings bello consistente. Oppure regolari, quindi scegliete bene uniche, di mini abiti, e poi 4071 il codice. Questo vediamo bene senza reggiseno, oppure se desideriamo, dice il codice. Allora, vediamo... Allora, guarda, 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 guarda.